Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Maria, sii al capezzale di tutti i malati del mondo, di coloro che in questo momento hanno perduto conoscenza e stanno per morire, di coloro che hanno abbandonato ogni speranza di guarigione e piangono di dolore, di coloro che non riescono a curarsi per mancanza di denaro, di coloro che vorrebbero camminare e che devono rimanere immobili, di coloro che dovrebbero mettersi a letto e che la miseria costringe a lavorare, di coloro che passano delle lunghe notti senza poter dormire, di coloro che devono rinunciare ai loro più cari progetti per l'avvenire, di coloro soprattutto che non credono a una vita migliore, di coloro che si ribellano e maledicono Dio, di coloro che non sanno che il Cristo ha sofferto come loro. Sii per questi nostri fratelli ammalati, madre di conforto e consolazione. Amen. Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve, A te ricorriamo, esoli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime, orso dunque, avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio a Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.